Il mio nome è Edgar, sono un pilota CAE. Ho sempre voluto essere un pilota sin da quando ero da bambino. Grazie alla CAE ho realizzato il mio sogno e adesso sono contento di dire a tutti che sono un primo ufficiale per EasyJet. Tutto il training con la CAE è stato eccezionale, un'esperienza unica. Si viaggia, si conosce molta gente a Milano, da dove vengo io. Tutti pensano alla CAE come la migliore scuola e posso garantirvi, dopo aver avuto questa esperienza, che è assolutamente una delle top player fra tutte le scuole del mondo. La parte migliore della CAE è sicuramente l'aspetto umano ed è grazie solamente all'aiuto di professori molto professionali che grazie a loro esperienza e anche al loro, il tatto di umiltà e umanità che hanno ci aiutano ad andare avanti per questo periodo molto difficile. So che per molti trasferirsi all'estero può sembrare una sfida più grossa e oltre le proprie capacità, ma non è sempre così grazie anche ad un team di professionali alla CAE che vi aiutano e vi guideranno verso questo percorso. Ed è sicuramente una delle esperienze che non mi dimenticherete mai nella vostra vita. Il mio messaggio per i futuri piroti è quello di non arrendersi mai, sempre puntare in alto, non farsi convincere le altre persone che è un sogno irraggiungibile, perché lo è, basta solo del duro lavoro e una buona mentalità e si può raggiungere.